Fratelli Bianconeri e Non, buonasera di nuovo a tutti noi e a tutti voi. Si gode, si gode molto, ma si gode per diverse ragioni. Si gode perché siamo in Champions, questa è la cosa più importante. Si gode, almeno io, per un personaggio come De Laurentiis, che anche quest'anno ne aveva fatta una grossa delle sue, ma come dico sempre io nella vita, quando tu ti comporti, non dico male, ma non bene, prima o poi ci sarà chi ti giudicherà. E quest'anno siamo stati noi i giustizieri del Napoli, involontariamente, perché non è di peso da noi, ma è di peso dalla professionalità e dalla serietà di una squadra come il Verona, che si è giocato tutte le carte addirittura per provare a vincerla la partita. Grande Juric, ma soprattutto grazie. Juric al 90% sembra destinato ad essere il prossimo allenatore del Torino. Non so dire se da Verona a Torino per lui sia un passo in avanti, visto che il Torino si salva tutti gli anni le ultime tre giornate, comunque questo poi saranno problemi suoi. Però la professionalità del Verona credo che nessuno la possa mettere in discussione. La nostra partita è stata una partita dove siamo stati perfetti. Una Juventus carica, adrenalinica, avrebbe vinto, probabilmente stasera la Juventus avrebbe vinto contro chiunque o quasi. Il Bologna dal canto suo si offende qualcuno se diciamo che era già in vacanza, possiamo dirlo? Non dico un Bologna remissivo, però sicuramente sono convinto che se il Bologna avesse avuto bisogno di punti per la salvezza, stasera la Juventus avrebbe fatto più fatica a vincere. Lo possiamo dire? Penso di sì, giusto? La partita che avrebbe dovuto essere il nostro viatico io pensavo sarebbe stata Atalanta-Milan. Ora sono andati da Iuric a Napoli e gli hanno fatto delle domande con dei secondi fini. Io mi chiedo perché queste domande non le hanno fatte anche a Gasperini di secondi fini? Perché io stasera ho guardato due partite in simultanea, sia la Juventus che l'Atalanta. L'Atalanta stasera non è esistita. Sarà stata stanca, sarà stata anche stanca, però non è stata certamente l'Atalanta stasera. Stasera mi sembrava una squadra che giocasse veramente molto in scioltezza. E tra l'altro non ho neanche capito il motivo perché oltretutto ci ha rimesso l'Atalanta, rimettendoci dei soldi, adesso è arrivata terza. Però, vabbè, tant'è, non si vuole pensare male di nessuno, sia ben chiaro. Sono soltanto considerazioni perché poi i giornalisti vanno a fare delle domande che sono tra l'esplicito e il meno esplicito. Però chi ti ascolta e deve rispondere scemo non è. E Iuric ha risposto per le rime. È una grande persona, Iuric, ribadisco. Detto questo ci va bene. Ci va bene all'ultimo respiro, ci va bene dopo una stagione che etichettarla sofferente è dire poco, ci va bene dopo aver vinto due coppe e ci va bene perché torniamo a fare quella coppa da noi tanto zannata, tanto ambita. E tra l'altro quest'anno dovremmo partire dalla seconda fascia, in seconda fascia, per cui probabilmente non avremo subito, diciamo, gli scontri facilissimi, almeno così, a vedere. Però vedremo. Questa è sicuramente molto prematura. Adesso, dalle prossime settimane, ci saranno una serie di decisioni da prendere perché dal primo di giugno comincia, mamma mia che noia, comincia il mercato. Se ne sentiranno, leggeranno, di tutti i tipi, ma la cosa principale è ovviamente. Pirlo va o resta? Penso che verso martedì o mercoledì si potrebbe cominciare a sapere qualcosa. Io però ho letto in giro per media, per social, sui forum bianconeri, ho letto che è sempre più la gente che vorrebbe Pirlo e sono sempre meno quelli che lo vorrebbero fuori. Io vedo un sacco di gente che è passata, non dico ad estimare Pirlo perché stimarlo sicuramente no, cioè voglio dire dargli un valore sopra le righe assolutamente no, però sicuramente stimarlo un po' di più sì. Ora, io dal mio punto di vista, Damon, che cosa ti aspetti tu dalla Juventus? Guarda, io non so che cosa aspettarmi, non so se in questo momento non so se voglio l'allontanamento di Pirlo o la conferma. Io quello che dico e lo ripeto già da qualche giorno è questo. Non mi interessa il nome di chi sarà l'allenatore della Juventus. Io spero che il prossimo allenatore che arrivi alla Juventus o se verrà confermato l'attuale mister abbia la squadra di cui ha bisogno con i giocatori che lui chiede. Perché è un'altra stagione come quella di quest'anno, spero che passi qualche tempo prima di rivederla o come quella dell'anno scorso anche, perché a livello di gioco siamo stati penosi anche con Sarra. Detto ciò vedremo che cosa succederà. Le prossime settimane ci daranno già gli input anche a livello di giocatori qualcuno. E allora adesso andiamo ovviamente di pagellazze, le ultime pagellazze della stagione, perché poi come vi dicevo prima domani sera farò il pagellone finale della stagione 2020-2021 che è quello che partirà da Andrea Agnelli per toccare tutte le persone più importanti fino ad arrivare ad Andrea Pirlo. Ora pagellazze. Scesni gli ho dato sei e mezzo, fatto un paio di parate, niente di eclatante, una partita da ordinaria amministrazione. Il Bologna ha combinato qualcosa, non può far nulla sul gol, per il resto direi partita discreta. Quadrado gli do sei e mezzo e gli do sei e mezzo perché comunque il solito Joan, quello che corre sempre continuamente, quello che non si ferma mai, anche stasera con il Bologna si è mosso tantissimo da par suo, non delude mai Joan, è rarissimo che sbagli partita. De Ligt sei e mezzo, gli ho visto fare due o tre chiusure interessanti, tra l'altro ho temuto anche un attimo per la sua caviglia perché la prima volta credo abbia ricevuto un pestone, la seconda volta invece gli si deve essere proprio girata la caviglia. Per fortuna è un terminator fisicamente, non ha subito danni. Nella partita di stasera ha fatto il suo, sicuramente. Diciamo che Palacio non è che gli abbia fatto vedere i sorci verdi, per dirla tutta. Kulusevski, io a Kulusevski stasera gli do sette, voglio essere generoso, secondo me si è mosso molto bene, ha creato tanto, anche se a mio modesto parere deve sveltirsi un po' perché è un po' troppo lento. Gli ho visto perdere due palloni perché si è incincischiato da solo tra il pallone e questo non va bene se vuoi giocare in Serie A e soprattutto nella Juventus dove ti si viene sempre chiesto il massimo. Deve migliorare il ragazzo, le qualità le ha, lo so. Alexandro sei, partita anche lui per me da ordinaria amministrazione, due o tre chiusure fatte bene, in attacco non è che si sia presentato tantissimo una partita diciamo facile. Danilo sei e mezzo, sempre nel centro del gioco, ha aiutato sicuramente Rabiot, non poco devo dire, per cui partita che è servita per mantenere l'ordine diciamo. Rabiot gli ho dato sette e mezzo, giocatore che mi ha sempre più conquistato soprattutto negli ultimi due mesi, in quest'ultimo mese è il giocatore in più del nostro centrocampo e nessuno può dire il contrario. Stasera anche gli dosette ha fatto un bel gol, ha fatto frutto di un'azione praticamente perfetta della squadra ma è sicuramente salito in sella. Credo, non voglio dire una bugia, una eresia, chiedo scusa, ma se noi comprassimo due veramente grandi centrocampisti e non sto parlando di gente come Arthur o Bentancur o Ramsey, sto parlando di gente importante, credetemi, questo ragazzo titolare nella Juventus ci può giocare. Chiesa sei e mezzo, non è ancora al massimo, però è uscito prima anche stasera per ovvie ragioni, però ragazzi quando c'è da far gol, c'è da creare qualcosa, lui c'è sempre. Sicuramente posso etichettarlo come l'uomo in più di questa stagione. Anche stasera contro il Bologna si è mosso tantissimo, ha corso avanti e indietro e ha fatto il gol dell'apertura della goleada, quindi più di così a Federico non gli puoi chiedere. Di Bala sei e mezzo, si è mosso molto, si è mosso, ha sfiorato il gol in due o tre occasioni, ha fatto un'azione bellissima per il gol di Morata che tra l'altro pensavo che fosse stato il suo inizialmente, per cui è chiaro che un po' in parte è mancato. Io, voi sapete che non prediligo molto questo giocatore, giocatore che a me piace, è sempre piaciuto poco, come posso dire, perché talvolta giochi in ciabatte, fa troppo altalenante come giocatore. È chiaro che un Di Bala al 100% può dare qualche cosa in più. Pirlo quest'anno non l'ha mai avuto, praticamente, a parte l'ultimo mese, forse, per cui, vabbè, stasera sei mezzo meritato. Morata a 7, due gol, non gli puoi chiedere di più, si è mosso a corso tantissimo. Il Bologna stasera con Morata ha visto un po' i solci verdi. Bonucci, Arthur, McKennie 6, a tutti e tre perché hanno partecipato. Bernardeschi gli diamo 6 di stima, anche se stasera anche gli ho visto fare un paio di cose della serie, lasciamo perdere. Ma soprattutto, udite, udite, Pinsoglio. Otto. Otto perché ha fatto una bella parata, ma otto perché uno di quei giocatori silenziosi, ma che è molto importante all'interno del gruppo, anche se non gioca mai. Per fare dei ruoli del genere bisogna nascerci. Vi ricordate quando avevamo anche Storari, che è stato per tanto tempo alle spalle di Buffon, senza mai dire una parola. Pinsoglio sta facendo altrettanto. Ma a differenza dell'ingrato Sarri, che l'anno scorso, nemmeno nell'ultima partita, a campionato vinto, gli ha fatto fare mezz'ora, stasera Pirlo gli fa fare una mezz'oretta, cosa che io condivido assolutamente. Grande Pinsoglio. E per ultimo il nostro allenatore, al quale stasera do 7, perché comunque ha presentato una Juventus Caparbia, una Juventus sicuramente grintosa il giusto, una squadra che ha voluto vincere e ha vinto. La fortuna ci ha messo lo zampino, si ripartirà dalla Champions, se si riparterà a compirlo o meno. Signori miei, lo scopriremo solo vivendo. Buonanotte a tutti e grazie per essere rimasti con Damon anche in tutta questa stagione.